... Cerchiamo di accelerare i tempi E' tutto pronto a iniziare? Si riparte con il terzo quarto di questa finale Dai, porta! Dai, Adri! Dai, supero, dai! Fallo di Andrea Morelli su Kevin Ollagia Porta via, porta via! Fuori, in basso! Bravandri! Forza, peggaro! 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 Ok! Odio, si è rimpiato a noi, eh! E' raga, si fa! Buona ragazzi! La ragazza è rimpiata! Sì! Dai, che palla con la barba! Dai, dai! Mi pesa! Due punti per Andrea Pulzinecchi Basci! Basci! Basci tutta la vita! Dai, dai! Dai, veloce! Mai Andri! Proverso! Non mi sono rimpiato! Non mi perverso! Vai Andri! Vai Andri! Vai sul tuo! Perdo, 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 vai così Girati, girati Passi, vai Vai andi, vai andi, dà la palla Assiste, ecco a destra, la storia Andrea Burtinetti E' stato svanito un mazzo di chiavi Fiat con un bottellino e un telecomando Chi l'avesse perso può vengarsi in segreteria Assiste Vai da solo Sì Pietro Dai, puro indifenda Sempre lui, Pietro Maeleni Dai difesa, forza Detta Sì Pietro Maeleni Grazie Finta e canestro per Andrea Morelli. Che faccio? Forza peggioro! Occhimi basta! dai mico taglia fuori dai andri è fallo quello dai mico no taglia Pietro dai 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 tagli ste palla è un'incomprensione rivessa dai via dai l'abbraccia vai ragazzi difesa aiuta aiuta Pietro bravo Pietro passi passi venga sempre passi madonna vai Pietro vai vai Pietro vai Pietro dai però occhio occhio non vuoi che avresti i paloni quattro minute al termine e il punteggio è di 36 a 25 per la PES pesamo dai 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 oh è tre è tre anni e no e no sono tre anni che veniamo a toccare qua ti corre con PES pesa buono 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 e anche stasera c'è stasera va bene va bene è rimessa è rimesso Si rifà subito con seconde. 36 a 26. Time out pesano. Grazie. Sempre passi sono. Vai Pietro, liberi. Dai ragazzi, attenzione. Dietro, devi tirare. Dietro! Si tira! Vai Pietro! Grazie mille. Forza, ehi! Attenzione! Forza! Mingo riposto! Vai Pietro! Ma chiedo bene però! Vai Pietro, vai Pietro! Occhio riposto se c'è! Dai! Buono! Incredibile! Buono! Guarda! Dai, difesa! Dai, difesa! Dai! Fino in fondo Castillo, un fantastico canestro per Mili Gioca, gioca l'Andri Gioca l'Andri Canestro difficilissimo per Andrea Morelli Vai Pietro, vai Pietro, davanti Pietro Forza Pesaro, forza Pesaro Forza Pesaro Pietro, forza Palli quelli sono, sono tutti i palli con le mani basse Bellissimo assist di Pietro Maloni Il piccolo Laia ancora a segno Cosa ha fatto? Andrea Morelli Ha sommato o no? Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì Sì, sì Sì, sì Dai ragazzi Dai, 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 dai Dai ribanto perché, dai Pietro taglia fuori Sìì, occhio ribanto Castillo Dai, 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 dai Fuori, 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 fuori Grandi Piano, piano Un minuto Un minuto Un minuto, forza Allora, ora, sempre con le mani basse Sempre con le mani basse Sì, grande Migu Grande Migu Cruce la retina Giacomo Mingucci Dietro, difesa, difesa Mando a sinistra Difesa Guardate il ruolo per il 2014 Pasci, pasci, pasci Vai, dai, dai Sì, è quella Ma come gliel'ha data Che è stato, Pietro? Si ha perso il pala lì E ora si è spostato il passaggio Dai, una scuola Castillo 44 a 36 15 secondi Al tele del terzo quarto Quinto fallo Quinto fallo per Riccardo El Lomo Quinto fallo per Riccardo El Lomo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.